Perché raccontare il Piano Nidi con il Biograforum? Ci è piaciuta l'idea di sperimentare forme, modalità nuove di comunicazione per raccontare una vicenda amministrativa importante, che cosa è stato fatto, quali sono le prospettive del Piano Straordinario per i Nidi, per i servizi educativi per l'infanzia. E abbiamo scelto di farlo puntando sulle persone. Il Biograforum rimanda proprio a queste storie personali che si intrecciano nella scelta politica, nella vicenda amministrativa, ma mette l'obiettivo anche sulle storie personali degli utenti finali di questa misura amministrativa. E allora è un modo di rendere in maniera diversa dal solito convegno una vicenda ricca di implicazioni politiche, finanziarie, amministrative, che coinvolge diversi livelli di governo, ma che tocca alla fine davvero la vita, le condizioni di vita di tante famiglie e di tante persone. Grazie. 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 Grazie.